Il suo sguardo vale più di mille parole, ma le parole non bastano. Anche tu puoi salvare la vita degli animali, basta una firma, la tua. Dona il tuo 5 per 1000 alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Firma per questi occhi e per altri mille così. Grazie a tutti.